BEST FRIENDS FOREVER Che forza fare il giornalista televisivo! Mio padre sta preparando il barbecue! Oh, ho una fame! Anche il barbecue è forte! Ehi, fermi tutti! Non ricordo di avere mai invitato Olivia sul mio terrazzo, a meno che io non sia completamente pazzo! Scherzavo! Dai, papà! Ti va di venire con me giù in cucina a preparare l'insalata? Certo! Oh, è una magnifica idea! Ma prima voglio mostrare a Olivia la magia del barbecue! Devi vedere! Sfrigola da favola! Che ne dici? Uno spettacolo interessantissimo! Grazie, papà! Ora andiamo, Olivia! Sì, ma c'è ancora una cosa che voglio farti vedere! Abbassa questa leva, Olivia! D'accordo! Oh, che formaggio puzzolente! Il negoziante non me l'aveva detto! È terribile! Dai, papà! Bene! Adesso è meglio che andiamo a preparare l'insalata! Sì, certo! Soltanto un'ultima cosa! Vuoi girare, per favore? Su, coraggio! Gira! Va bene! Olivia, bella! Gira la manovella! Papà, che battuta! Eh, vabbè! Non lo sai che il bacon che la salsiccia avvolge per la sua golosa bontà tutti conquista e stravolge? Sì, papà, va bene! Andiamo, Olivia! Tuo padre è così buffo! È proprio simpatico! Forse, ma è anche imbarazzante! Oh! Niente di quello che fa o dice tuo padre dovrebbe imbarazzarti! Yo, Olive! Emma! È qui che c'è una festa? Dai, papà! Facciamo un barbecue in terrazza questa sera! E lei è invitato, lo sa! Oh, vi lovo! Hashtag questo barbecue spaccherà di brutto! Che fai, Redacchi? Non ridere! Yo, yo! Guarda chi c'è! Ragazzi, vi stimo! Yo! Mi fate ridirissimo! Deve essermi andato di traverso qualcosa! Ah, e come se non stai mangiando niente? Qualcuno per caso vuole reppare un bel barbecue? Certo! A bomba! Io! Allora andiamo! Oh, mamma, che cosa imbarazzante! Ma Olivia! Niente di quello che fa o dice tuo padre dovrebbe imbarazzarti, giusto? Io, io! Olivia! Hashtag i nostri papà sono fuori di testa! È vero, troppo giusto, Emma! Andiamo a palla in terrazza! A bomba! Olivia, ti loppo!